Abbiamo già finanziato 1.600.000 euro per la messa in sicurezza e siamo impegnati a trovare altri fondi per la bonifica definitiva. Il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, chiude con una promessa agli stati generali dell'Isochimica, l'evento organizzato dal Circolo Vittorio Foa del PD e che, tra gli altri, ha visto anche la partecipazione dell'ex ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. Per Caldoro la bonifica della fabbrica dove si scoibentava l'amianto dalle carrozze dei treni è una delle priorità della regione. All'iniziativa presente anche il presidente della provincia Domenico Gambacorta, che ha sottolineato l'impegno di Palazzo Caracciolo sul fronte dei temi ambientali, e il sindaco di Avellino Paolo Foti, per il quale bisogna dare una speranza di futuro a Borgo Ferrovia. Caldoro parla dell'Isochimica ma coglie anche l'occasione per fare il punto sui provvedimenti per l'Irpinia messi in campo dalla regione. Da parte nostra, per fortuna, l'Irpinia ha avuto tante risposte positive. Oltre che la nostra, la mia presenza anche qui ormai la presenza, non so quanti presidenti di regione sono stati così presenti fisicamente in Irpinia. Per fare cose serie però, non solo per fare una passeggiata, abbiamo affrontato i temi qualche giorno fa, come sapete, delle aree interne, abbiamo costruito con l'ex ministro Barca una bellissima esperienza di una comunità che costruirà non solo sulle cose concrete che significano servizi ai cittadini, ma proprio come cultura e modello di governo che deve crescere molto quello delle aree interne. E siamo i primi in Italia, l'Irpinia sarà una delle aree prototipali che inizierà per prima, quindi siamo un bel primato. Secondo, grandi infrastrutture, firmato ormai l'accordo sulla Leone Grotta Minarda, verremo qua fra qualche giorno per l'avvio dei cantieri e dell'operatività della Napoli Bari con la stazione dell'Irpinia. Tante iniziative su di recupero ambientale, perché qui abbiamo dovuto recuperare chiaramente un passato che era fatto di interventi industriali, che era fatto di discariche e che però poi rimangono tali e poi le devi mettere a poste, quindi abbiamo speso risorsi con un elenco molto ampio di tanti comuni che hanno avuto compensazioni ambientali e recuperi ambientali. Caldoro si sofferma anche sulle elezioni regionali e così risponde a chi gli chiede chi preferisce tra De Luca e Cozzolino come sfidante. Tanto è un problema del PD, io ho un altro problema, quello di capire bene cosa fare per il futuro e le condizioni oggi di chi deve fare il candidato a presidente non possono essere un match pugilistico, quindi vedo che nel PD c'è un esercizio a trovare candidati perché ci vuole lo scontro tra uno e l'altro, i cittadini non sono interessati a questo scambio, non sono interessati al litigio, non sono interessati a dare lo scontro nella politica, hanno ben altri problemi, bisogna offrirgli un programma di governo e io mi sono preoccupato di capire come convincere i cittadini a partecipare alla politica, a condividere un grande progetto di rilancio del sistema regionale. Per quanto mi riguarda, come sapete, per me questo regionalismo è arrivato al capolinea, quindi bisogna chiudere senza avere un atteggiamento di accanimento terapeutico, continuare a tenere aperte queste regioni che non possono più produrre niente di buono per il paese, quindi è il momento delle grandi riforme, facciamole, quindi facciamo un processo nuovo, costituente, che superi l'attuale regionalismo, che chiude le attuali regioni, che le sciolga per costruire delle macroarie. Grazie a tutti.